Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali per l'anno 2021-2022, c'è tempo fino al 3 agosto per presentare tutta la documentazione necessaria. I moduli infatti potranno essere scaricati dal sito del Comune Nisseno. Le domande di ammissione o riammissione corredate da tutte le eventuali certificazioni e documenti richiesti potranno essere inviate entro il termine previsto, tramite PEC all'indirizzo protocollo-pec.comune.caltanissetta.it oppure mail all'indirizzo ufficio.protocollo-comune.caltanissetta.it o infine tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al signor sindaco del Comune di Caltanissetta, direzione settima politiche sociali, sociosanitarie e scuola Corso Umberto 134. Dopo la presentazione delle istanze verrà stilata una graduatoria secondo i punteggi attribuiti così come stabilito da apposito regolamento e le ammissioni saranno effettuate in relazione anche a eventuali titoli di precedenza, come ad esempio la frequentazione dell'asilo nell'anno precedente e i posti disponibili nelle sezioni degli asili. Anche se si precisa nel bando, gli stessi potrebbero subire variazioni sulla base delle esigenze dell'asilo o conferme delle frequenze degli utenti aventi diritto e ancora l'amministrazione comunale si riserva, si legge, di ampliare o ridurre il numero dei posti disponibili per asilo in relazione all'esigenza o in relazione alle risorse economiche. Prevista anche la chiusura di un asilo nido, se l'escrizione o il numero dei bambini frequentanti nel totale risulta inferiore a 10. Al momento dunque i posti disponibili sono 54 minori, di cui 12 lattanti e 42 di vezzi, per l'asilo di Santa Petronilla, Viettore Romagnoli. A Santa Barbara, Corsa Italia, massimo 10 minori, di cui 10 di vezzi. Con la Ianni, sito in via degli Orti, 32 minori, di cui 12 lattanti e 20 di vezzi, e infine 37 minori da poter ospitare, di cui 12 lattanti e 25 di vezzi, nell'asilo di via Pierpaolo Pasolini. L'attività inizierà il 1 settembre 2021 per tutti i bambini, che vengono suddivisi i lattanti dai 3 ai 12 mesi, e semi di vezzi o di vezzi dai 13 ai 36 mesi.